Ed eccoci tornati in studio, in diretta da San Giovanni Rotondo, gli studi di Padre Pio TV, come anticipato in compagnia della nostra ospite di oggi, che è Michelangela Tricarico dell'Associazione Le Fracchie di San Marco in Lamis. Michelangela, ben trovata. Salve, salve a tutti, ben trovati. Buongiorno. Tra l'altro ti confesso che quando devo pronunciare il tuo nome ci penso sempre un attimo, perché Michelangela non è un nome molto diffuso. Sì, è meno comune. Molti mi chiamano Mariangela, infatti, perché viene più facile. Hai questo privilegio, perché poi ecco, avere un nome non comune comunque penso sia un privilegio. E un altro privilegio che ti porta qui oggi è il fatto di essere membro attivo di questa associazione che custodisce questa tradizione importante, Le Fracchie di San Marco in Lamis. Sono il presidente dell'associazione. La presidentessa. Bene, e ti occupi anche della comunicazione istituzionale dell'associazione. Prima di parlare delle Fracchie tra di noi, se sei d'accordo, lancerei un video di un minuto che ci porterà a vivere lo scenario che si realizzerà stasera a San Marco in Lamis, città in provincia di Foggia, a Ticua, a San Giovanni Rotondo, nel quale nasce e si conserva, grazie alla vostra associazione, questa bellissima tradizione. Quindi darei la linea alla regia per aiutarci ad entrare in questo fantastico scenario. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ebbene, veramente un video di grande impatto, anche grazie a questa colonna sonora importante, che ci richiama a questo rito della luce e del fuoco. Come leggevamo in sovrimpressione, un fuoco che riscalda, che accoglie. Allora, Michelangela, che cosa sono le Fracchie? Le abbiamo viste, ma adesso ce le racconterai. Come nasce questa tradizione e perché? Allora, quando parliamo delle Fracchie, non possiamo staccare la tradizione al culto per la Vergine Adolorata, che ha origini molto antiche, parliamo del Seicento. Anche se si ritrovano effettivamente, il culto della Vergine Adolorata si ritrova effettivamente poi con Don Costantino Iannacone, che nel Settecento decide di dedicare l'antico lazzaretto di San Mito e San Rocco, con l'annessa cappella di San Felicina, alla Vergine Adolorata. Questo perché? Perché lui ha delle visioni della Vergine Adolorata e quindi costruisce questa chiesa alle falde di quello che è il Monte di Mezzo. diventa ben presto fulcro di tutta la cittadina san marchese, sia a livello civile che a livello religioso. Quindi, pian piano, nell'Ottocento, la chiesa diventa angusta, diventa piccola, per cui viene costruita il 15 settembre del 1833 un'altra navata simile a quella precedente. Come dicevo, il culto della Vergine Adolorata è strettamente legato ai riti della Settimana Santa, in particolar modo quello delle fracchie, che è solita farsi il venerdì santo. Nella giornata di oggi. Nella giornata di oggi, ma storicamente non è così. Vado un attimino indietro. Fai benissimo. Allora, la Madonna doveva essere accompagnata, extramenia, fuori dalle mura, alla collegiata, alla chiesa della collegiata, che si trovava nel centro urbano. Quindi, nel Settecento, inizia questo rito, anche se storicamente dobbiamo legarlo al 1824, quando il Vescovo di Manfrenonia ufficia il giovedì santo come giorno per la processione delle fracchie. Più tardi, nel 1873, invece il Vescovo di Foggia autorizza la sola arci confraternita dei Sette Dolori, che è poi quella che vediamo nelle immagini, a fare la processione delle fracchie. Inizialmente le fracchie erano proprio utili, perché dovevano illuminare il cammino della Vergine, che appunto fuori dalle mura doveva raggiungere la collegiata. Quindi aveva un utilizzo pratico, perché San Marco non aveva illuminazione pubblica. E quindi erano delle torce portate a mano. E anche questo, vediamo, noi come scuola, poi arriverò a questo punto dopo, si vede un'immagine di un ragazzo che porta a mano delle torce. Una torcia un po' più piccola rispetto. Una torcia un po' più piccola, proprio perché aveva appunto questa utilità pratica. E quindi il popolo san marchese utilizzava la legna che aveva per poter appunto illuminare il cammino. Questo succede fino a una data importante, è il 1825, quando una ricca san marchese, donna Micheline Gravina, decide di far costruire dai suoi garzoni come segno di devozione alla Vergine addolorata questa enorme fracchia che chiaramente non si poteva più portare a mano e venne montata su delle ruote di carro. A questo punto l'Arciconfraternita ha le sue dimostranze, perché non è d'accordo, ma l'autorità comunale dice sì. E quindi da quel momento le fracchie vengono montate su ruote. A questo punto siamo... Diventano più grandi. Diventano più grandi. Monumentali quasi. Succede che nel 1954, a causa della messa per ricordare l'ultima cena, le fracchie andrebbero a sovrapporsi con quest'altra funzione. Quindi vengono spostate al Venerdì Santo. Da quel momento, dagli anni Sessanta, le fracchie diventano una vera gara di bravura da parte degli imprenditori della legna e del carbone, fino ad assumere delle dimensioni gigantesche, provocando anche dei danni e dei disordini con queste alte lingue di fuoco. Nonché a perdersi anche quella che è la reale motivazione, quella di devozione alla Vergine. Così vengono posti dei limiti di dimensioni. E siamo così agli anni Ottanta. Arriviamo a noi. Arriviamo ai giorni nostri. Prima però, ecco, noi le abbiamo viste, le stiamo vedendo nelle immagini. Tu ce le hai spiegate bene. Però, ecco, ritorniamo un attimo sulla fracchia in sé per come è oggi. E come viene costruita questa enorme torcia di legno? Allora, sì, in pratica anche qui c'è una forte maestria. Abbiamo i maestri fracchizi. Perché ogni singola azione, operazione, è fatta con molta precisione. Altrimenti si rischia di vanificare il lavoro, anche di equilibrio della fracchia stessa. Quindi la fracchia viene preso un tronco di fracchia che viene prima sezionato e messo in fondo un fermatronco per evitare che la fracchia si possa squarciare. Poi vengono messi degli anelli, chiamati proprio cerchi, e viene riempita anche con legna di vario genere e secchezza proprio perché la deve fare fiamma, deve accendersi bene. Viene quindi mondata su ruote. Quindi il tronco viene aperto legato a questi cerchi e all'interno di questo tronco aperto viene posizionata questa legna. Poi c'è questa pertica che porta la vergine addolorata proprio perché per, come dire, dire la fracchia è per la vergine. Quante persone servono per trascinare questa torcia gigantesca? Allora, ne servono tante. Allora, ovviamente a seconda della dimensione della fracchia, anche il numero delle persone cambia. Tant'è che ci sono anche delle fracchiette molto piccole, fatte dai bambini della scuola addirittura dell'infanzia. Ovviamente aiutati dai genitori trainano questa fracchia all'urlo di Oissa, perché Oissa è l'urlo che dà la forza fisica proprio di poterla trascinare. Sì, ai ragazzi ci arriviamo subito perché poi c'è, come dire, una seconda parte interessante dedicata alla cura di questa tradizione proprio anche attraverso il lavoro nelle scuole. Stavo notando però dalle nostre immagini e del resto anche osservando proprio te che i fracchisti hanno un fazzoletto legato al collo. Allora, il fazzoletto legato al collo ha un'utilità pratica. Bisogna coprire le vie aeree, quindi naso e bocca, dal fumo che fuoriesce dalla fracchia. E quindi è un modo per ripararsi, per coprirsi. Bene, anticipando quelle che poi sarebbero state le mascherine, però ovviamente non ha la stessa forza estetica. E poi sono più belle. In effetti, sono più belle e più utili. Molto bene, dicevamo che questa tradizione si realizza a San Marco Illamis, in provincia di Foggia, città limitrofa, San Giovanni Rotondo, ormai da tanti anni ed è diventata un patrimonio della cultura della Puglia, del sud Italia, riconosciuta anche dal Ministero. Sì, allora, l'Associazione delle Fracchie, anche quest'anno, come fracchia speciale, ha realizzato la fracchia di San Marchesi nel mondo, che è una fracchia trainata proprio dai nostri compaesani che sono emigrati. E questo è un modo proprio per rimarcare lo stretto legame tra origine e popolo, tra tradizione e popolo. E anche il ritorno di questi San Marchesi è un modo per ritrovarsi, riconoscere se stessi e le proprie radici. Poi è una forte emozione, è una forte commozione tirare la fracchia, è veramente emozionante. E rispondendo un attimo alla tua domanda, sono andato un attimino più indietro, questa fracchia è riconosciuta, ha i riconoscimenti della Regione Puglia e anche del Ministero della Cultura, ne ha il patrocinio, due importanti riconoscimenti. Direi proprio di sì. Lo ricorderemo anche prima di salutarci, quando concluderemo questa intervista, ma lo diciamo subito adesso, prima di fermarci un attimo per una pausa pubblicitaria, che l'accesso a San Marco in Lamis per partecipare al rito delle fracchie è totalmente libero. Assolutamente sì. Però consigliamo magari di arrivare con un po' di anticipo. Sì, perché le fracchie prima di essere accese all'imbrunire, perché altrimenti avrebbe poco senso la loro luce, vengono messe in mostra sul Viale della Repubblica e sulla via Atigua di via Arusselli, proprio per permettere ai visitatori di poterli ammirare prima dell'accensione. Quindi vi invitiamo ad arrivare a San Marco in Lamis già dalle prime ore del pomeriggio per poterle apprezzare ancora integre e per assistere poi al rito dell'accensione, della processione che avete visto nelle nostre immagini, per illuminare la strada alla Madonna addolorata che va incontro a suo figlio. Bene, noi ci fermiamo soltanto per qualche istante, poi ritorniamo insieme a Michelangelo Tricarico, presidente dell'Associazione dei Fracchi di San Marco in Lamis, per scoprire come questo mondo poi sia entrato anche nelle scuole a tutela della sua conservazione. A fra poco. In diretta da San Giovanni Rotondo, siamo negli studi di Padre Pio TV, questo è Just Today, stamattina venerdì santo 2023, stiamo parlando del rito della luce del fuoco che attraverso le fracchie si svolge a San Marco in Lamis. Ne stiamo parlando con la presidente dell'Associazione dei Fracchi di San Marco in Lamis, Michelangelo Tricarico, che ci ha spiegato come nasce questa bellissima tradizione, molto caratteristica, che richiama turisti da tutta la Puglia, da tutta Italia. Stavamo consigliando proprio un istante fa di non arrivare proprio al ridosso dell'accensione, in maniera tale da poter apprezzare anche le fracchie che fanno bella mostra di sé, ancora integra e prima di essere accese lungo le vie principali della città. Prima dell'interruzione pubblicitaria stavamo dicendo come la tradizione, la cura della tradizione sia entrata anche nelle scuole. Michelangelo è anche un insegnante, adesso ci spiegherà nel dettaglio come e perché la tradizione è entrata nel mondo della scuola e come la scuola può aiutare a conservare questa tradizione e farla vivere meglio. La nostra associazione che nasce nel 2016, se vogliamo, nasce proprio tra i banchi di scuola perché nasce in seguito a un progetto che chiamiamo il fuoco che unisce e accoglie, molto significativo per noi e l'associazione nasce con l'idea di conservare e far conoscere nel tempo la più antica e bella tradizione del nostro paese, appunto le fracchie, quindi con l'intento di promuovere e proteggere tutti quelli che sono i riti legati alla settimana santa, anche manufatti, folclore che c'è dietro alla settimana santa. Quindi la nostra associazione collabora con la scuola, l'istituto comprensivo Balilla, compagnone Rignano, l'istituto dove io opero, per ricercare le ragioni storiche che portano quindi alla costruzione della fracchia. Questo perché a un certo punto ci siamo accorti che era un lavoro da fare con i ragazzini per permettere che questa tradizione potesse appunto perpetrarsi nel tempo. Perché il fatto di far conoscere da dove veniamo, da dove proveniamo, è motivo di spinta per i ragazzini a far sì che la tradizione continui. Poi abbiamo un grande motore noi della scuola perché sappiamo bene che tutto quello che viene fatto con i nostri ragazzini poi viene portato a casa, viene portato a casa, viene portato alle famiglie e quindi anche loro si sono rinnamorate e riappropriate di questo nostro rito. C'è un effetto moltiplicatore del valore. Poi è bello quando nella scuola, e tu come insegnante lo sai benissimo, ai ragazzi non si cedono soltanto cognizioni teoriche, ma si coinvolgono, come del resto abbiamo visto anche nelle immagini che scorrevano alle nostre spalle, si coinvolgono concretamente nelle attività. Vedevamo i maestri fracchisti che facevano mettere le mani sul legno ai ragazzi per aiutarli a realizzare quelle che già prima, dicevamo, sono delle fracche più piccole che però paradossalmente poi sono quelle più vicine all'origine delle fracche che come ci dicevi tu erano fiaccole più piccole che servivano per illuminare il cammino della Madonna. Bene, facciamo un focus su quello che succederà stasera a San Marco in Lamis e quindi raccontaci. Allora, stasera l'associazione, volevo parlare anche di un altro progetto. Assolutamente sì, abbiamo tempo. Allora, stasera, quindi l'associazione tra i progetti di quest'anno ha un progetto molto interessante e importante perché parla di inclusione. È il secondo anno di fila che abbiamo un sodalizio con il centro valori di San Giovanni Rotondo. Siamo andati a fare questa nostra doppia veste di associati, quindi di un'associazione ma anche di insegnanti ci ha permesso di portare al centro valori laboratori e formazioni per questi ragazzini che quest'anno è sfociata in una meraviglia perché tra le fracchie speciali c'è una fracchia del centro valori. Quindi i ragazzini del centro saranno stasera da noi a trainare una fracchia. Sono tutti emozionatissimi, loro ma anche noi. Eh, certo. Dicevamo invece, mi chiedevi che mi sono persa? Intanto questa è una bellissima notizia perché poi ecco, quando le tradizioni riescono a coinvolgere anche le persone più deboli ad essere inclusive sono davvero belle. Quello che ti chiedevo è, ma tu in parte mi hai già risposto, anche in conclusione di chiacchierata, di raccontarci quello che succederà stasera e probabilmente ci hai raccontato una delle cose più belle che succederà. Cos'altro possiamo aspettarci? Niente, ecco, in conclusione come vuoi chiudere questa chiacchierata su questa bellissima tradizione della luce e del fuoco o del venerdì santo a San Marco in Lamis? Allora, stasera, durante il momento in cui le fracchie sono in mostra, verrà allestito un infopoint e un punto di ascolto. L'infopoint per, non soltanto per rendere visibili i progetti dell'associazione, ma anche per essere un punto di informazione turistica. Nel punto di ascolto, invece, durante proprio questo momento racconteremo attraverso filmati, interviste, tutto quello che è legato alla devozione della Vergine addolorata e quindi della processione delle fracchie. Molto bene, guarda, una curiosità, però te la voglio chiedere, guardando queste immagini abbiamo visto che durante la processione delle fracchie accese queste immense torce di fuoco lasciano cadere le loro lingue ardenti di carboni che poi posizionano sulla strada. Mi immagino che a seguire, il giorno dopo, ci sia qualcuno che si preoccupi di ripristinare le strade. A dire il vero, l'opera di pulizia viene fatta immediatamente, nel senso che nel frattempo che la fracchia passa, già degli operatori seguono la fracchia per permettere a quella successiva di poter passare, altrimenti si creerebbe anche un disagio per i fracchisti successivi. Ovviamente bisogna andare con scarpe molto usate per evitare l'indomani di comprarne un paio nuovo. Sì, perché immagino che appoggiando i piedi, le nostre calzature sui carboni ardenti, soprattutto quelle dei fracchisti, magari il pubblico si tiene un po' più indisparte, le scarpe possano subire qualche danno. Così anche come chi poi passa per pulire la strada utilizzerà degli strumenti ad hoc, visto che i carboni sono proprio fuoco vivo. Sì, sì, e braccia. Molto bene, io penso che come voi sono stato conquistato dal racconto di questa tradizione antica, ma sempre in grado di emozionarci, per cui vi rinnoviamo l'invito a raggiungere San Marco Illamis nel pomeriggio, nella serata di oggi, per assistere a questo rito della luce e del fuoco veramente bello e straordinario. Ringrazio la Presidente dell'Associazione delle Fracchie di San Marco Illamis, Michelangela Tricarico, per essere stata qui con noi. Grazie a voi dell'invito e vi aspettiamo per vivere insieme questa forte emozione. E chiederei alla regia di chiudere questo talk, questa chiacchierata che abbiamo fatto con Michelangela, con quel video breve che ha aperto la nostra intervista, perché era un video veramente molto bello e impattante. Se il video non ci fosse, ovviamente la regia può andare tranquillamente in pubblicità. Ce l'abbiamo. Ok. 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 Grazie a tutti.